Ok, stiamo registrando e adesso faccio lo sharing. Allora, vedete la slide? Sì. Ok. Allora, siccome sono passati un po' di giorni, facciamo un attimino un sunto dell'ultima parte della lezione scorsa. Allora, dopo aver completato la parte delle interazioni deboli, se vi ricordate abbiamo iniziato adesso la parte moderna, sostanzialmente il modello standard. In particolare abbiamo iniziato a studiare l'unificazione elettrodebole, quindi tra l'interazione deboli e l'interazione elettromagnetica, che è alla base, insieme al meccanismo di Higgs, del modello standard delle particelle, ok? Che sarà l'argomento di oggi e domani, sostanzialmente. Allora, rivediamo velocemente quello che succede. Lo faccio in italiano questo summary, così andiamo più veloci, visto che sono cose che abbiamo già visto, e poi passiamo alla parte nuova. Allora, quello che, se vi ricordate, abbiamo visto, è che le interazioni deboli a corrente carica, di fatto, si basano su un gruppo di simmetria di trasformazioni locali SU2-left-L, ok? Del tipo tipico di SU2, lo stesso, se volete, dell'ISO spin forte, con la differenza che adesso è una simmetria locale, quindi i parametri delle trasformazioni dipendono esplicitamente dalle coordinate spazio-temporali, e i generatori T sono infatti dati al solito in termini delle tre matrici di Pauli, ok? Gli autostati di questo ISO spin debole sono, appunto, così come avviene per l'ISO spin forte, organizzati in doppietti. In particolare, trattandosi di autostati di interazioni debole, per correnti cariche, questi doppietti devono essere soltanto di tipo left-handed, ok? Soltanto fermioni left-handed e anti-fermioni right-handed possono accoppiarsi ai bosoni W, quindi all'interazione debole, a correnti cariche. Quindi i fermioni sono suddivisi in questi sei doppietti left, ciascun doppietto ha un ISO spin debole e un mezzo, e quindi al solito possiamo distinguere i due componenti, superiore e inferiore, dalla terza componente dell'ISO spin debole, che in analogia all'ISO spin forte è un mezzo per il fermione che sta sopra e meno un mezzo per quello che sta sotto. Vi faccio notare che qui stiamo utilizzando gli autostati deboli dei quark, ok? Non gli autostati di massa, ma quelli deboli, ok? Quelli che entrono in gioco mediante la matrice CKM. Esistono ovviamente anche i fermioni right-handed, a parte per i neutrini, che quelli davvero non esistono, o meglio, non sono contemplati nel modello standard. Questi fermioni right-handed però sono singoletti di ISO spin debole, quindi hanno un valore di ISO spin debole zero, e quindi di fatto non prendono parte alle interazioni debole a correnti cariche, ok? Sono proprio esclusi da questo tipo di interazione. Allora, adesso noi facciamo il solito procedimento, partiamo dalla lagrangiana libera, in questo caso qua per un doppietto di autostati deboli, introduciamo la derivata covariante, in modo da rendere il gauge invariante alla lagrangiana, e nel far questo dobbiamo introdurre tre nuovi campi di gauge, che chiameremo W1, W2, W3. In particolare, i primi due, queste due combinazioni dei primi due, W1 e W2, ci danno i bosoni fisici W più W meno, ok? E abbiamo visto anche, a partire da questi tre W, quindi questi tre accoppiamenti, è possibile costruire tre diverse correnti, la J1, la J2 e la J3, ok? che dipendono dalle tre diverse matrici di Pauli, e questa combinazione specifica tra le correnti J1 e J2, ci dà le correnti standard cariche, ok? Quelle che noi abbiamo poi anche trascritto e mostrato l'equivalenza con la forma tipica W meno A, ok? Per il W più più e per il W meno. Per andare oltre, abbiamo però bisogno di introdurre adesso una nuova simmetria. Allora, nel modello standard, quindi il modello di Gleccio, Salame e Weinberg, di fatto non si utilizza un U1 retromagnetico, ma si introduce una nuova carica, una nuova quantità che si chiama ipercarica debole, che si indica con la lettera Y. Anche questa qua è basata su un gruppo di simmetria locale U con 1, e questa è la simmetria che vedete qui, ok? Adesso il parametro della trasformazione lo chiameremo beta, e entra in gioco questa nuova carica che si chiama appunto ipercarica debole, che è legata alla terza componente di IsoSpin da questa relazione qui, e questa è la carica elettrica. Quindi adesso possiamo classificare in modo completo i leptoni e i quark, ok? Left e right, in base a tutti quanti questi, diciamo, quattro numeri quantici che sono IsoSpin debole, la terza componente, la carica elettrica e l'ipercarica debole. A questo punto abbiamo in mano che cosa? Ci ricordiamo che abbiamo ancora una terza corrente da sfruttare, che è la J3, che è la corrente di fatto neutra, ma quella non corrisponde esattamente alla corrente della Z0, perché mentre, diciamo, la J3 si accoppia soltanto a fermioni left, ok? Perché per i fermioni right la terza componente di IsoSpin è zero, quindi quella corrente è esattamente zero. Quello che sappiamo, invece, sperimentalmente, è che il bosone Z si accoppia sia a fermioni left che a fermioni right, quindi serve qualcosa di diverso, e in effetti quello che serve è un mixing, ok? Un mescolamento tra il campo del fotone e il campo della Z0, ottenuto appunto come mixing dei rimanenti due bosoni di gauge che non abbiamo ancora incluso. Quindi il terzo bosone W, il W3, è questo nuovo bosone legato alla simmetria di ipercarica. Il mescolamento avviene mediante questa matrice 2x2, che dipende da un unico parametro, che è appunto quest'angolo di mixing, chiamato anche angolo di Weinberg, ok? E andando a fare questo prodotto matrice-vettore, trovate esattamente queste due combinazioni. Quindi possiamo esprimere il fotone come questa combinazione di B e W3, e la Z0 come questa combinazione di B e W3, ok? Quindi in termini dei segni e cosegni. Non siamo ancora arrivati alla fine, ovviamente, anche perché, come studieremo anche meglio oggi e domani, questi bosoni qui, il B e il W123, di fatto sono privi di massa, ok? Quindi queste semplici combinazioni non possono ancora darci i bosoni fisici, ok? Dobbiamo fare un passo successivo, che è appunto il meccanismo di Higgs. Abbiamo anche visto, in conclusione, che è anche la corrente elettromagnetica e la corrente, diciamo, da accoppiamento con lo Z, sono legate allo stesso modo, di come avvengono i bosoni di gauge, alle due correnti, la corrente di percarica e la corrente J3, ok? E andando quindi a sviluppare, se vi ricordate, tutti i passaggi, e fare, confrontare, quindi, diciamo, membro a membro, abbiamo ottenuto alla fine, proprio le relazioni tra le costanti da accoppiamento. Quindi la carica elettrica, che è la costante da accoppiamento elettromagnetico, sostanzialmente, si lega in questo modo, quindi, mediante il seno di θ Weinberg, alla costante da accoppiamento dell'interazione debole a correnti cariche, e in questo modo qui, alla costante da accoppiamento di questa nuova, diciamo, simmetria, che è la simmetria di percarica, ok? E le due, J' e J, J' e J' sono legate dalla tangente del seno di θ W. Il θ W è stato misurato, ormai, diciamo, con grande precisione, soprattutto ai tempi dell'app, ok, al CERN, e oggi abbiamo, appunto, una conoscenza abbastanza precisa di questo angolo, in particolare il seno quadro e dell'ordine di 0.23. Quindi, noto adesso il seno, abbiamo delle relazioni precise tra le costanti di accoppiamento elettromagnetiche, quella di ipercarica e quella a corrente carica. Quindi qui è dove eravamo arrivati la volta scorsa. Vi è tutto chiaro fin qui? Sì, sì, sì. Va bene, adesso rallento un po' la velocità e cominciamo la parte nuova, va bene? Quindi abbiamo parlato della... Diciamo, andiamo più in dettaglio adesso per capire come si accoppia adesso il bosone Z. Allora passiamo alla lavagna. Questa è la pagina 1. Allora, quello che dobbiamo fare adesso è di sfruttare appunto quella combinazione che vi mostro prima della corrente Z espressa in termini delle correnti di ipercarica J3. Quindi la relazione, se vi ricordate, è questa. JZ mu è uguale a minus JY mu sine Teta Weinberg plus J3 mu cosine Teta Weinberg. Ok. Now, let's take the generic case. So, for a given fermion described by the spinner U, as usual. Ok. So, this becomes... So, let's now put the two currents explicitly. This is G prime square, by by 2. Hypercharge of the fermion left-handed. Then we have our adjoint spinner, gamma mu, UL plus G prime half hypercharge of the fermion right-handed. And then we have UR, gamma mu, UR sine Teta Weinberg. Vi ricordo che la corrente di ipercarica è democratica, ok? Rispetto a left-handed, cioè li tratta esattamente allo stesso modo, non fa distinzione. Per cui abbiamo entrambi i termini con la stessa costante di accoppiamento G primo. And then we have the J3, ok? the last one, which is expressed in terms of the... if you remember, the third component of the weak isospin times cosine of theta Weinberg. Ok. Now, we just wrote the two currents explicitly. Let's now do some simple algebra. So, this is minus one-half G prime sine Teta Weinberg. Here we collect what we have here. So, hypercharge of the left-handed fermion U bar L gamma mu UL plus hypercharge of the right-handed fermion U bar R gamma mu UR plus third component of weak isospin G cosine Teta and then we have U L gamma mu U L. Now, we use the relation between the hypercharge and the third component of isospin. If you remember, this is twice Q or charge of the fermion minus the third component of weak isospin. and we remember that this disfair component is exactly zero for right-handed fermions because these are weak isospin singlet, ok? So, using this, we obtain J Z mu minus J prime sine Teta Weinberg Now, we put inside QF minus I W3 U L gamma mu U L plus in this case, for the right, we only have the electric charge U right, gamma mu U right and then these will be the same so, third component of weak isospin G cosine Teta Weinberg U L gamma mu U L Now, we collect all the terms with the left-handed fermions and all with the right-handed fermions so, this is going to be minus G prime charge minus isospin sine Teta Weinberg plus third component G cos Teta Weinberg multiplying the left current and then we have the right current minus G prime sine Teta W electric charge and now we have now the right-handed current now we have the right-handed now we have the right-handed that intercorre between G and G prime ovvero G prime uguale G per la tangente di Teta W so, we have the right-handed so, we have the right-handed G prime uguale a G per la tangente dell'angolo di Weinberg this diventa che cosa? g minus Qf minus I W3 sine Teta Weinberg times tangent of Teta Weinberg plus I W3 cosine Teta W that multiplies the left-handed current minus I continue here G sine Teta W tangent Teta W electric charge and then we have the right-handed current this can be written in a better way and we have the right-handed as G minus Qf minus I W3 sine squared of Teta Weinberg divided by the cosine of Teta Weinberg plus I W3 cosine of Teta Weinberg and then we have the right-handed current and then we have the right-handed current mi fermo un attimo aspetto che arrivate tutti e poi cambiamo pagina io ci sono siete tutti ragazzi c'è qualcuno che sta ancora copiando ancora un secondo però sì sì ok dimmi tu allora ok ci sono va bene allora cambiamo pagina adesso ecco qui allora adesso ripartiamo da questa espressione che abbiamo ottenuto ma definendo prima adesso la costante di accoppiamento della Z0 cosa che fino ad ora non abbiamo ancora mai fatto ok so we defined GZ as G divided by cosine Teta Weinberg and so if you remember now the relation between the coupling constant this is just electric charge divided by sine Teta Weinberg times cosine of Teta Weinberg and since we know exactly the value of the ok with the high precision the value of the Teta Weinberg angle we can also take the value to be 0.64 ok and now we substitute this into our current so this is GZ minus QF minus IW3 sine squared of Teta W plus third component of weak isospin cosine squared Teta and then we have minus GZ UF sine squared of Teta W and UR comma mu UR now in the first parenthesis we have IW sine squared T minus IW sine squared Teta plus no sorry we have a double minus sine so this is the sum of the two so we have IW3 times sine squared plus cos squared so sine squared plus cos squared gives one so this we can immediately rewrite as GZ minus QF sine squared Teta W and we just are left with I3W here raccogliete la terza component di Teta W viene fuori la somma di sine quad più cos in quad che fa 1 quindi i sine mi scomparano in questo secondo pezzo and then we have minus GZ QF sine squared Teta W UR gamma mu UR and now we are done so we will call all this piece the left coupling constant all this piece here the right coupling constant and so lately we can write our current simply as GZ CL UL gamma mu UL plus CR you are gamma mu you are se vi ricordate questa era l'espressione che avevo accennato qualche lezione fa quando abbiamo parlato del meccanismo GIM quindi quando abbiamo visto che introducendo il quarto quark quindi il secondo doppietto si andava a cancellare quel termine di neutral current flavor changing quello che dava una parazione di stranezza eravamo partiti da una corrente di questo tipo qui adesso abbiamo capito perché allora adesso questo risultato lo rivediamo dimmi c'è la domanda? sì il segno meno davanti al secondo GZ nella per l'ultima riga è compreso nella costante di accoppiamento? sì credo di sì adesso lo vediamo nella slide penso di sì adesso torniamo nella slide appunto allora qua abbiamo la pagina nuova vediamo un po' se è così sì abbiamo qua il segno meno quindi ricapitolando defining the coupling to the physical Z boson in this way as G divided by cos theta Weinberg ok and using now the relation between the weak hypercharge and the weak isospin the third component and also remembering that the third component of isospin is zero for right-handed fermions at the end at the end we obtain the Z current in this way in this simple expression where now the two left and right couplings are expressed in terms of the third component of weak isospin electric charge and Weinberg theta angle okay now there is one important point here so differently from the W boson the Z boson couples to both left-handed and right-handed carrier states you see here we have both a left-handed current and a right-handed current but not equally because the two couplings are indeed different okay and this is a consequence of the electroweak mixing because the current associated with the Z boson gets two contributions one from the weak current J3 which only couples to left-handed particles as you know and the other is from the hypercharge current which is democratic which treats left-handed and right-handed states equally so overall the Z couples to both but differently so through different coupling constants we can also write the coupling of the Z in terms of the vector and axial vector coupling the one we are more used with in quindi facciamo adesso quest'altra derivazione quindi arriveremo adesso ad esprimere la corrente Z in una maniera equivalente non più in termini delle costanti del copiamento left-right ma in termini delle costanti del copiamento vettore e vettore assiale so first of all let me remind you the following expression that we derived so ul gamma mu ul we can write as u bar gamma mu one half one minus gamma five u and similarly u r gamma mu u r we can write as u bar gamma mu one half one plus gamma five u so now we start from our latest expression for the z current as gz c left u bar left gamma mu u left plus c right u bar right gamma mu u right and now we substitute the two expressions above so this is jz cl u bar gamma mu 1 half 1 minus gamma 5 u plus c right u bar gamma mu 1 half 1 plus gamma 5 u this we can also write as gz u bar gamma mu here we collect all the couplings so cl 1 half 1 minus gamma 5 plus cr 1 half 1 plus gamma 5 u 2 we bring the 1 half outside so this is just g z half u bar gamma mu and now we have to sum c left minus c left gamma 5 plus cr plus cr gamma 5 trivially this is gz divided by 2 u bar gamma mu c left plus c right minus c left minus sorry it's a minus sign c right gamma 5 u and so this we can finally rewrite as um okay let's continue here g z divided by 2 sorry the gz divided by 2 and now we have cl plus cr u bar gamma mu u minus cl minus cr u bar gamma mu gamma 5 u now this is a vector current and so the coupling is our cv and this is an axial vector current axial vector current and so the corresponding coupling will be c a so overall we have gz divided by 2 cv u bar gamma mu u minus ca u bar gamma mu gamma 5 u quindi abbiamo scritto in modo equivalente la corrente per accoppiamento con lo z come la differenza tra un termine vettoriale e un termine vettoriale ma anche qui con costanti d'accoppiamenti diverse perché perché il cv non è altro che cl più cr e quindi è se vi ricordate dalla slide precedente data da questa relazione qui se inquadro teta weinberg più meno q con f se inquadro teta weinberg e quindi non è altro che i w 3 meno 2 q f se inquadro teta weinberg mentre la costante di accoppiamento per il termine di vettore assiale cl meno cr è data la differenza e quindi è semplicemente dato dalla terza componente di iso spin ok ok allora adesso fatemi un attimino riscrivere meglio cioè in modo più esplicito quindi abbiamo trovato che cosa che è la corrente di zeta scrivendole esplicitamente la possiamo anche scrivere come gamma mu gamma 5 u ovvero come g z diviso 2 i w 3 meno 2 q con f se inquadro teta w che moltiplica u bar gamma mu quindi la corrente vettoriale meno w 3 che moltiplica la corrente di vettore assiale vi faccio anche notare allora siamo mettiamo un asterisco qui così ce lo riportiamo qua giù che è questa che possiamo scriverla anche in una forma che mette in evidenza il vertex factor ovvero come g z un mezzo cv meno ca gamma 5 u barra gamma mu u ok per cui di fatto il fattore di vertice nel caso dello scambio della zeta 0 è il vertex factor dobbiamo moltiplicare per meno i semplicemente otteniamo meno i g z gamma mu un mezzo cv meno ca gamma 5 dove vi ricordo che i g z a sua volta non è altro che g diviso il coseno di teta Weinberg ci siete tutti ok torniamo sulla slide ok ricapitoliamo anche qui quello che abbiamo trovato ok quindi la corrente j la possiamo scrivere in due modi equivalenti o in termini delle costanti di accoppiamento left e right o in termini delle costanti di accoppiamento vettore e vettore assiale ok le relazioni sono date da queste due formule qua su qua giù ok quindi cv e cl più cr cv e cl meno cr nota l'espressione di c left e c right che abbiamo ricavato prima possiamo ovviamente ricavare anche quelle di cv e ca ok ora ora since la weak neutral current contains both vector e axial vector cabling it does not conserve parity as well ok so parity violation is not only related to charge current but also to weak to weak neutral currents ok and this also immediately follows from the different cabling to left-handed and right-handed states ok so the z couples also to right-handed states but with a different cabling and this again implies a parity violation which is not maximal in the case of the z it is maximal in the case of w because the w can interact exclusively with left-handed fermions and right-handed fermions but it is partial for the case of the z boson allora adesso diciamo raccogliamo un attimino le idee e vediamo come esprimere le correnti diciamo i vertici per le quattro interazioni per le tre diciamo i quattro vertici fondamentali che abbiamo studiato fino ad ora ok facciamo in italiano che ci spiegamo prima allora questo qua è il vertice di q e d ok per esempio quello che sta in un diagramma di scattering moller per esempio ok abbiamo un elettrone che va in elettrone con l'emissione di un fotone in questo caso il fattore di vertice è meno i ge gamma mu dove ge non è alto che la carica elettrica dell'elettrone ok e quindi la possiamo esprimere in questo modo qui mettendo appunto in risalto la corrente vettoriale e le costanti a monte poi abbiamo visto anche un analogo diciamo vertice per quanto riguarda la qcd ok in questo caso abbiamo un quark e poi un altro quark con l'emissione di un gluone qui dobbiamo stare attenti perché se vi ricordate dobbiamo mettere dentro anche gli autostati di colore che entrano in gioco ok e queste qua sono le matrici di gelman quindi diciamo le matrici di gelman si accoppiano se vi ricordate soltanto con i vettori di colori questa parte può essere fattorizzata fuori questo non è altro che l'elemento di matrice della matrice alfa di gelman e ancora una volta mettiamo in risalto la corrente vettoriale ok della qcd e essendo entrambe correnti vettoriali vi ricordo ancora una volta ciò ci garantisce che la parità è conservata in interazioni elettromagnetiche e forti andiamo adesso alle interazioni deboli qui abbiamo un esempio di interazioni a corrente carica per esempio un vertice neutrino elettrone w questa ha la classica forma v-a che abbiamo ricavato la volta scorsa ok quindi abbiamo lo spinore aggiunto lo spinore iniziale e in mezzo abbiamo la nostra fattore di vertice tipico appunto con la struttura tipica v-a e quindi adesso appunto la corrente di questo tipo qui è una corrente di tipo v-a mentre quello che abbiamo appena imparato riguardo la z0 pensiamo per esempio consideriamo un vertice neutrino elettronico neutrino elettronico con emissione di z adesso il fattore di vertice invece è questo qui che possiamo esprimere in termini delle costanti del copiamento vettore e vettore rassiale ok e quindi possiamo esprimere adesso in questo modo ok in termini della corrente vettoriale e della corrente vettore rassiale e poi possiamo anche esprimere gz in termini di g diviso cosentere quindi adesso abbiamo completato un pochettino il quadro delle interazioni se volete come calcolare i vertici per tutte e tre le interazioni in particolare anche per il caso di correnti cariche e correnti neutre chiaro ok va bene va bene allora adesso andiamo avanti now the values of the couplings left, right vector and axial vector are completely determined once the value of the sentita wire is known ok we have seen now we have derived these relations here so if you know the electric charge and the third component of isospin and the theta w you know also the value of this constant ok and if you know the left and the right coupling constant you also know the vector and axial vector because it's just these two combinations here and so now we can tabulate all the values so here we have the three generations of neutrinos the three generation of charged leptons and then we have the three upper quarks up, charm and top and the three lower quarks low type quarks down, strange and bottom so electric charge that you know perfectly third isospin third component of weak isospin it is a plus for the upper states of the doublet and minus one alpha for the down states then we know also how to calculate the weak hypercharge for left-handed and right-handed which is zero for the case of right-handed neutrinos because they essentially do not couple with the standard model and then once we know all these numbers here we just need can put our results into the formula above and we obtain now the numerical values of the four coupling constants that are relevant for the coupling with the Z boson okay and let me note again that the Z boson couplings are the same for all three generations so i valori di cl, cr, cv e ca sono gli stessi per tutte e tre la generazione di neutrini tutte e tre la generazione di electroni carichi i tre upper quark i tre lower quark okay now in the ultra relativistic limit only two helicity combinations give non-zero matrix element in the decay of a Z boson into a fermion anti-fermion pair so the first one corresponds to the decay of the Z boson into a left-handed particle and a right-handed antiparticle so you see here you have the Z boson decaying into a right-handed antiparticle and a left-handed fermion okay since we are ultra relativistic helicity and cararity essentially are the same and the other possibility is now that the Z boson decays into a right-handed fermion so with positive helicity and the left-handed antiparticle so with negative helicity okay two possibilities both possibilities are real and physics physical but of course depending on different couplings CR and CL and we can also write the call the matrix element for these two decays as M left and M right okay and so now we can calculate as usual the spin average matrix element squared as the average of the squared these two matrix element corresponding to these two different decay and one can show we will not show but just believe this one can show that this turns out to be given by this combination of variables where we have the mass of the Z the coupling cost of the Z and either the left and right coupling or the vector and vector axial coupling okay so you can express equivalently in these two modes for instance now as usual you put your spin average matrix element into the standard formula for the decay rate okay the one we derived at the very beginning and at the end one obtains this simple expression in terms of the coupling of the Z the mass of the Z and then either these two couplings or the other two let's consider these two for instance for instance and now we can compare this result with the one that we derived already a few lessons ago for the W if you remember okay so the structure is the same we have now the Z coupling instead of the charge current W coupling the Z mass instead of the W mass and here in addition we have this combination of coupling constants now we have in hand everything to calculate the branching ratio for the decay of the Z into any fermion pairs okay so we know the value of GZ we know the value of the mass of the Z which is extracted from the if you remember from the bright wigner at the resonance and we also know the numerical values of the coupling constants okay so we can calculate now all possible decay rates let's consider for instance the Z into a neutrino anti-neutrino this is the general expression now we put the value of Z or JZ which is 0.74 the value of the mass of the Z which is 91 GV and then here we put the tabulated values for the case of neutrinos okay so we can go back here to the table okay and we take now these values here squared for the case of neutrinos when we put all together we take the calculation we get 167 MeV so this is the partial decay width of the Z boson into a neutrino anti-neutrino pair now of course we can generalize this to all possible decays of the Z so the Z boson couples to all fermions okay and it can decay to all flavors with the only exception of the top quark because the top quark is heavier than the Z boson okay and so the total width of the Z is given by the sum of all the partial decay widths so for instance we have three times so since the coupling is the same for all the three generations as I was showing before we have three times the width for the electron neutrino so this accounts for the moon neutrino and the tau neutrino as well we have again three times the decay into electron-polytron including also moon, anti-moon tau, anti-tau and then we have three times the decay into the quarks here we have to distinguish between the low type quarks which are three possible the bottom sorry the down strange and beauty bottom and only two for the case of the hap type quark because the top quark cannot be a decay product of the Z so only the hap quark and the charm quark okay here the three actually the three factor the factor three multiplying here accounts also for the colors the three color colorless combination and one can be even more refined here using the tabulated values of the coupling and also including the first order QCD radiative correction so allowing for one of the quark radiating a gluon okay so you have to correct your coupling with this ratio here at first order then you finally obtain the total decay width of the Z which is 2.5 GV so this is the one predicted by the standard model using this relation here and the value that you can obtain in this way and this is to be compared with the experimental the measured value okay which is of course in a very very good agreement okay quindi abbiamo adesso una formula che ci consente di calcolare tutti quante le larghezze parziali dei cadimenti conosciamo i valori nelle costanti del copiamento CV e CA per tutti i possibili fermioni leptoni e quark li mettiamo insieme in queste relazioni qua e troviamo il valore che esattamente corrisponde con quello misurato and now we can also have a detailed information on the single branching ratio and decay width okay per esempio se prendiamo so for instance if we go to electron positron the branching ratio is essentially 3.4% okay and the width is like something like 84 MeV the same applies to the other two okay this is essentially the lepton universality okay so we can so essentially the branching ratio is essentially the same for the three lepton modes and so we can take an average value for leptons okay generic lepton which is given again by width of 84 MeV and the branching ratio of 3.3 3.4 something percent then we have the partial decay width to all quark modes we call this hadronic because at the end quark hadronize of course this is the largest contribution so it accounts for essentially 70% of the branching ratio okay and a width of 1.74 GV and then lately we have the one into the neutrinos okay which overall has a width of 500 MeV and the remaining probability of 20% so when you sum up the essentially 10% probability of a charged lepton 20% probability for neutrino and 70% probability for your hadron decays you obtain your overall 100% probability for your total decay the data from LEP and Tevatron which was a proton antiproton collider at Fermilab as we will see better in a moment provided precise measurement of the fundamental parameters of the standard model essentially okay or of the electric model so the mass of the W the mass the Z the theta-weinberg angle the Fermi constant and the electromagnetic coupling however only three of these parameters are independent so if any three of these parameters are known one can obtain the other two by exact relations and let me give you some examples okay suppose you know all this quantity here so the theta-weinberg the Fermi coupling and the electromagnetic constant then you can obtain the prediction the standard model prediction for the W mass the mass of the W boson okay another prediction so another relation between this fundamental constant of standard model is the one relating the mass of the W and the mass of the Z okay which are simply given by the cosine of theta-weinberg and there are many other relations that have been all very precisely tested experimentally okay for instance just to give you an example just from this relation here the standard model prediction from the ratio of the W mass and the Z mass is exactly the cosine of theta Weinberg okay and this is expectation and you can compare this with indeed the measured ratio of these masses okay which is exactly in an agreement one more delicate point is about the mass of the W bosons okay so if we use the same the analogous relation here okay so suppose you can constrain very well the mass of the Z and you know very well the mass of the value of the theta Weinberg you have a very precise prediction from the standard model on the mass of the W which is 79.937 GV okay and this must be compared with experimental value which is 80.38 so now the two values so the prediction and experimental values are clearly in a good agreement or let's say they point to the same order but if you look at the uncertainty which is very small there is overall a 30 sigma discrepancy between the two so a huge discrepancy and this is actually not a failure of the standard model but rather another great success of the theory and the reason is the following because the if you go now to higher order the standard model tells you that the mass of the w has to be corrected with higher order terms coming from loops okay involving the top quark or the Higgs boson so essentially the standard model predicts that the mass of the w is not only the zero order one but you have to include also corrections if one correction goes like the square of the mass of the top quark the other correlation goes with the logarithmic of the Higgs boson and a and b are exactly calculable variable okay from the constant from the standard model so indeed if you now allow to these additional corrections you end up exactly with your experimental result the direct observation of the effect of quantum loop corrections provide an impressive validation of the electrowick sector of the standard model okay so these corrections are not invented they predicted by the theory and you do need them in order to reproduce your experimental value so it's a great again a great success success sorry since now the electrowick measurements are so precise to be sensitive to quantum corrections they strongly constrain possible models for physics beyond standard model in the sense that any new particle or interaction that could contribute to these loops here would result in a prediction different than okay so if your experimental value differs from the standard model prediction this means that in your real experiment there is some more contribution into the loop not coming from the standard model but coming from something new some something some contribution from new physics and this is why it is so important to look for to make precision measurement and precision tests of the standard model parameters now since the dependence on the Higgs mass in the easy loop correction is only logarithmic the dominant correction comes from the top quark mass let me go back here you see so we have a strong dependence on the top quark mass okay and only a mild dependence on the Higgs mass so let's for the moment forget about the Higgs and concentrate on the top okay the precise measurement of the electroweak parameters at LEP implied this value of the top mass okay with quite large uncertainties so people after LEP was already expecting the top quark to be so heavy order of 175 gv okay now the top quark was indeed discovered in 1994 after a long search because it was so massive and the discovery occurred at the CDF and D0 experiment at the Tevatron accelerator at Fermilab so the Tevatron was a proton antiproton collider okay with a center of mass energy 1.8 TeV the circumference had a radius of 1 kilometer okay and so there were two these two different and competing experiments the CDF and the D0 which essentially simultaneously observed for the first time the top although the discovery was first claimed by the CDF you see here a picture of CDF so the point is that in order to detect such a heavy particle you need a very powerful accelerator so with the highest energy reachable at that time which is now superseded by the LXC of course and a very sophisticated particle detector that was the CDF as an example the CDF okay so what do they see they found the case so the process is the following we have a quark from the proton an antiquark from the antiproton they annihilate into gluon and these or photon and this at the end goes into a top anti-top pair which immediately decays into a BW so bottom quark and W and the W at the end can decay in any of these possible modes so either quark mode or electronic mode etc okay and so at the end what you do is to reconstruct the invariant mass of all the final particles so you get essentially jets from the quark here and there you get a clear signal from the moon you have a missing energy or missing transverse momentum from the neutrino and once you take account all of these okay you can reconstruct the environment mass and the varying mass peaks around the mass at the mass of the top quark okay so the top quark is by far the most massive fundamental particle of the standard model it is heavier than the Higgs which is heavier than the Z which is heavier than the W and the present world where average value from the PDG is 173.21 GV okay and clearly due to its large mass the lifetime of the quark top is extremely short it decays in time of the order of 10 to the minus 25 seconds and consequently as we already mentioned the top quark which is producing this kind of reaction do not have time to form bound states such as those observed for the resonant production of so there is no way to form a bound state of T-T-bar for instance because it's too heavy and too unstable ok quindi in questo modo abbiamo anche trattato la scoperta dell'ultimo quark abbiamo parlato della scoperta del C e del B qualche settimana fa abbiamo completato in questo modo anche la parte sperimentale adesso completiamo questa parte qui prima di andare poi al meccanismo di Higgs allora ci siete fin qui ragazzi seguente ok adesso rimettiamo le mani nella lagrangiana adesso la lagrangiana unificata del modello elettrodebole so the lagrangian density of the unified electrowe theory can be obtained in the usual way so starting from the lagrangian of a free fermion in this case we have to use a left handed weak isodablet ok and requiring its invariance under this local gauge transformation so u1 hypercharge times su2 left and we do the same procedure as we did already for qad and qcd ok so to ensure the gauge invariance the standard derivative must be replaced by the covariant derivative which now includes four gauge bosons the three w bosons w1 w2 w3 and the hypercharge gauge boson b ok and the gauge fields the three w's and the b must transform properly in order to ensure gauge invariance of the lagrangian so the b transform in the easy way just like the photon does ok having here the g prime coupling constant instead of the electromagnetic coupling constant the w must transform in a more complicated way again with these structure constants of the su2 group and the reason is that similarly to qcd so similar to su3 color the su2 left group is a non abelian group this means that the generators do not commute ok and so one has to allow also for self interactions of the w's among themselves vedete la struttura di questa legge di trasformazione di w è analoga a quella che abbiamo visto in qcd per per i gruoni se vi ricordate ok con un termine aggiuntivo con le costanti di struttura del del gruppo di trasformazione and so so we start from our free lagrangian and then once we substitute our covariant derivative we obtain now this lagrangian density here but this is clearly not the end of the story so to complete lagrangian we have to add as you know the kinetic terms of the four gauge fields which all together form the so-called young mills term of the lagrangian and these are the two essentially this is the one for the three w and this is the one for the b ok this is the analogous that we had already for the photon and the gluons if you remember ok and again the hypercharge tensor strength tensor is essentially analogous to the electromagnetic one ok whereas the one for the w is more complicated again like su3 qcd because we also have these self-interaction terms and so overall we can write the let me call the pseudo electroweak lagrangian in this way ok so here this is our covariant derivative the mass term of the fermion the w and the hypercharge kinetic terms now why this is actually only a pseudo and not the real electroweak the point is the following and it is a crucial point so although based on a local gauge symmetry this Lagrangian density is not yet the Lagrangian of the standard model because the gauge bosons w y and b are still massless and so they do not correspond yet to the physical electroweak bosons the photon the z and w plus r minus and this can be seen immediately by the absence of quadratic terms in these fields so we don't have quadratic terms in the for instance in the w or in the b which would appear in this way as standard way for the Lagrangian okay because if you now add by hand this kind of mass terms you would immediately destroy the gauge invariance of the Lagrangian so the local gauge principle which is necessary to describe correctly the fundamental interaction and to ensure that the resulting theory is renormalizable okay which is a needed requirement to get the physical theory this works only for massless bosons and in fact this is not a problem for QAD and QCD because photons and gluons are indeed massless but this is a big problem now with the electroweak bosons because we know that the W and Z are massive actually are very massive now since the photon and the three weak bosons are intrinsically connected in the framework of the electroweak unification the electroweak model needs to be supplemented with a mechanism that generates the large masses of the W Z photon massless and this task is achieved by the Higgs mechanism that we will now study which indeed generates the masses of the electroweak bosons in a manner that preserves the local gauge invariance of the standard model Lagrangian yet leaving the photon massless ripeto un po' perché è un punto abbastanza delicato questo qui quindi diciamo il principio di gauge è un requisito necessario per una teoria che sia fisica ok rinormalizzabile e quindi fisica il che funziona benissimo per QED e QCD perché prevede che le masse dei bosoni di gauge che vengono introdotti tramite la derivata covariante siano nulle e infatti la massa del fotone del gluone sono nulle adesso ne abbiamo applicato il principio di gauge a in realtà anche ai bosoni deboli e qui nasce il problema perché i bosoni deboli non sono per niente privi di massa ma hanno una massa in realtà molto grande quindi serve qualcosa adesso per aggiustare questo problema ok diciamo il modello di Weinberg salame glasher è estremamente elegante ti spiega tantissime cose ma manca un pezzo fondamentale che è il pezzo di come spiegare la massa dei bosoni e come vedremo non solo dei bosoni ma anche dei fermioni quark e leptoni ok questo pezzo fondamentale è appunto il meccanismo di Higgs che cominceremo a studiare adesso e che consente di preservare l'invarianza di gauge della lagrangiana del modello standard e allo stesso tempo generare le masse delle particelle che sappiamo hanno massa sia i bosoni ma anche i fermioni lasciando invece zero per esempio la massa del fotone o del gluone ok ci siete fin qui va bene visto che sono le 10 direi facciamo una pausa e poi cominciamo a parlare del meccanismo di Higgs va bene allora sono le ci vediamo alle 10 e 10 dai 6 minuti ok ok grazie 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 ci siete sentite pronto sì ho ok Allora, cominciamo adesso a discutere questo tassello fondamentale del modello standard, che è appunto il meccanismo di Higgs. Now, if you remember, the apparent violation of unitarity in the E plus C minus into W plus, W minus cross-section, was resolved by the introduction of an additional Feynman diagram and including a new neutral boson, which was the Z boson. So we had this unitarity problem, this was solved by adding the neutral current. And this was the first theory prediction for the existence of neutral current, which were eventually discorded by the Gargamel experiment. Now, a similar issue arises now in the W into W scattering, where indeed the cross-section calculated from the following three diagrams violates unitarity at large energies. So with the center of mass energies above one TV. So here we have a T-channel, okay, with the W exchanging a photon or a Z, or an S-channel, okay, again exchanging a photon or a Z, or we have a four-point W interaction, which is also allowed due to a self-interaction term of the Lagrangian. Now, specifically, the diverging amplitudes originate from the scattering of longitudinally polarized W bosons. And since longitudinally polarized states do not exist for massless particles, if you remember, real photons can only have two transverse polarization states, but not longitudinally polarized states, it turns out that this unitary violation in the cross-section for the W scattering can be associated with the W bosons being massive. Okay. So since they are massive, they have to have this additional longitudinal polarization state. And this is where this unitary violation occurs in the scattering. Now, and similarly, as was done for the case of the neutral currents, the unitary violation can be canceled by the introduction of new diagrams, okay, in particular, two new diagrams involving the exchange of a scalar particle. Scalar means spin equals zero, okay, which in the standard model can only be the Higgs boson, as we will see. So we have, again, a T-channel and an S-channel with these now scalar particle exchange. And once you consider all of those, okay, these two interferes destructively with these other three, and overall the cross-section becomes finite and consistent with experimental data. Now, so this is one of the reasons why the standard model needs a scalar boson. Clearly, this is not the only and the main reason. The Higgs mechanism is based on the idea of the so-called spontaneous symmetry breaking, SSB. And the concept of spontaneous symmetry breaking can be illustrated in the following example, okay? So consider the bottom of an empty wine bottle and the ball on top of it. So if the ball is put on top of the peak, the system is symmetrical with respect to rotating the bottle. So the potential is rotationally symmetric, okay, with respect to any vertical axis. Now, below a certain potential energy, so below a certain height, the ball will spontaneously break this symmetry and will move into a point of lowest energy, right here, okay? Now, the result is that the bottle maintains its rotational symmetry, but the system, in its lowest energy state, no longer does. And we say that the system has been, the symmetry has been spontaneously broken. So a spontaneously broken symmetry has the characteristic that a critical point must exist. For instance, the height of the bottom of the bottle in the previous example. And beyond this critical point, the symmetric solution becomes unstable and the ground state becomes asymmetric and degenerate. Degenerate means that all these positions here have the same potential energy, which is zero in this case, okay? More in general, suppose that a physical system can have at least two phases. The unbroken phase, when the physical system, the states are invariant with respect to all symmetry group for which the Lagrangian is invariant. Okay? For instance, the ground state of the system has the same symmetry of the Lagrangian. In this phase, only massless gauge bosons can exist. And then we have the spontaneously broken phase. So below a certain energy, a phase transition might occur. The system reaches a state of minimum energy, that we will call the vacuum state, in which part of the symmetries of the Lagrangian are lost or hidden. For a gauge theory, some of the gauge bosons become massive and appear as physical state after the spontaneous symmetry breaking. As I note, the choice of the physical vacuum state among the infinite possible ones is just determined by a quantum fluctuation occurring while the system is crossing the critical point. The infinitesimal fluctuation of a system can do this side on the system fate by determining which direction the system will take. So basically, the moment in which the particella is moving from this position of perfect symmetry, okay, so if we pass from a situation broken to a situation broken, sarà soltanto una fluttuazione quantistica a decidere se la pallina cadrà da questo lato, o da questo lato, o da questo lato, o da questo lato, insomma, a decidere quale delle infinite posizioni, quale dei infiniti dei generi stati fondamentali andrà ad occupare. Now, as we have seen, the Lagrangian for a scalar field phi of mass m, so the one corresponding to the Kline-Gordon equation, if you remember, is of this type here. This you have in your notes from one of the previous lessons, where the first term with the derivatives is the kinetic term, okay, the kinetic energy term, and then of the particle, and then we have also a mass term for the scalar particle, okay. Let's now replace this mass term here with a more general potential energy term, okay, which also includes a quadratic term, like this one, but also in addition a fourth order term. So then the Lagrangian for this scalar field will become like this. Now, the quadratic term here can still represent the mass of the particle corresponding to the scalar field phi. And the term to the fourth power of the field can be identified as a self-interaction of the scalar field corresponding to a four-point interaction with the coupling lambda four, so to this kind of four-point interaction term. And we define the vacuum state as the lowest energy state, so if you like the ground state of the field phi, that means the state corresponding to the minimum of the potential energy V, so the minimum of this quantity here, okay. So in order to obtain this vacuum state, or this lowest energy state, we need to minimize this function here. And it turns out really that this function can have a finite minimum only if the delta parameter is positive, okay. Otherwise, we don't have any local minima. So delta, sorry, lambda, lambda must be positive, okay. What about the other parameter, mu? We have also another parameter, mu, here, okay. So if mu square is also chosen to be positive, the resulting potential has a minimum exactly at phi equals zero, where the field goes to zero. In this case, the vacuum state corresponds to the field phi being zero, okay. The phi is on this real axis here. And the Lagrangian describes a scalar particle with a mass mu, because we have a mass term where mu square is positive, and also a four-point self-interaction term proportional to the fourth power of the field. What about now the case where mu square is chosen to be negative? So if mu square is negative, then the potential has two degenerate minima. You see one here, one there. At values plus or minus square root of minus mu square divided by lambda, okay, that we can call simply as plus or minus v. v stands for vacuum, okay. So we're going to have two different vacuum states. So mu, in this case, can no longer be interpreted as the mass of the scalar field. The lowest energy state does not occur anymore at phi equals zero, where we actually have a local maximum here. Rather, the field will have two non-zero vacuum expectation values, either minus v or plus v. Mi fermo un attimo. Vorrei assicurarmi che vi è chiaro fino a questo punto. Ragazzi, ci siete? Okay. Sì, ci sono, stavo ricopiando. Ah, va bene, va bene. Okay. Quindi per avere un minimo che interessa a noi, perché vogliamo arrivare a studiarci il vacuum state, il potenziale, il parametro lambda deve essere zero. Deve essere positivo, scusate. Però abbiamo adesso una possibilità di scegliere il mu quadro positivo o negativo. E questi sono le due, diciamo, ciò che succede nei due casi, va bene. In un caso abbiamo un solo minimo che corrisponde a quanto il campo stesso è zero. In un altro caso, invece, abbiamo due minimi degeneri, hanno la stessa energia, dove il campo assume un valore positivo o negativo. Now, since the potential energy term contains only even powers of the field, either squared or fourth power, the Lagrangian is clearly and intrinsically symmetric for the exchange of phi to minus phi. Abbiamo solo potenze pari, quindi uguali. Now, the choice of the vacuum state, either plus v or minus v, however, breaks this symmetry. So, we are in the case of a spontaneous symmetry breaking. And after the spontaneous symmetry breaking, the Lagrangian indeed maintains the original phi to minus phi symmetry, but the ground state of the theory does not anymore, because we choose either one or the other. So, we are breaking the symmetry. Without loss of generality, we can choose the vacuum state of the scalar field to be plus B. Prima di andare avanti, un esempio, diciamo, se volete, analogo a quello della bottiglia, per dare un po' l'idea di questa rotta di simmetria. Immaginate di essere al ristorante in una grande tavolata rotonda, ok? Tutta apparecchiata, quindi, diciamo, davanti a ciascun commensale c'è le posate, il piatto, eccetera, il bicchiere e tutto. E finché nessuno tocca niente, tutto è perfettamente simmetrico, ok? Cioè, nel senso che l'ospite non sa se prendere la forchetta a destra o quella a sinistra, sono perfettamente equivalenti. Ma nel momento in cui uno, uno solo degli ospiti, prende la prima forchetta, sta rompendo spontaneamente la simmetria. Perché a quel punto tutti sono costretti a prendere rispettivamente quella a destra o quella a sinistra, ok? Allora, torniamo a cose più serie. Quindi abbiamo due possibili minimi nell'ipotesi di un quadro positivo, negativo, scusate, prendiamone uno senza rompere la generalità. Supponiamo, per esempio, che il nostro minimo, cioè che la fluttuazione quantistica, abbia deciso di far precipitare il nostro stato in questo stato di vuoto, il più V. Now, if you remember, we studied this already at the beginning, in quantum field theory, particles arise as excitations, or quanta, of the corresponding field. The excitation of the scalar field phi, that means the particle eta corresponding to the field phi, can be obtained by perturbating the field around the vacuum state. So this is our vacuum state. We take a small perturbation, and this perturbation in quantum field theory is the physical particle corresponding to the field phi. Allora, vediamo di ricavare adesso questo più esplicitamente. Allora, siamo a pagina 4. So, by perturbating the scalar field around the vacuum state, one can express our field as V plus this small perturbation. Where this perturbation, actually, in quantum field theory, corresponds to the particle associated to the field phi. Okay. So now we start from our Lagrangian. It is one half dem of phi dem of phi minus V phi. and let's substitute here the full expression of the field, including the perturbation. That is one half demu V plus eta x times demu V plus eta x. and then we have the potential energy term. So we have minus one half mu squared V plus eta x squared minus the self-interaction term V plus eta x to the fourth power. Now, when the derivative acts on V, this gives you zero because V is just a constant. Okay. It's a number. It's the numerical value of the field at the vacuum. Okay. At the vacuum state. So the only derivative that matters is when it acts on the eta. So on the perturbation. So this is just one half demu eta demu eta and then we can develop here the polynomials. So one half mu squared V squared plus 2 V eta plus eta squared minus one fourth lambda V to the fourth plus 4 V cube eta plus 6 V squared eta squared plus 4 V eta cube plus eta to the fourth. Now we'll make just trivial algebra demu eta demu eta minus one half mu squared V squared minus mu squared V eta minus one half mu squared eta squared minus one fourth lambda v four minus lambda V cube eta minus three half lambda V square eta squared minus lambda V eta cube minus one fourth lambda eta to the fourth. ditemi quando siete tutti qui allora adesso ci siete adesso ci ricordiamo che nello stato di vuoto il nostro campo phi è uguale a più V abbiamo scelto la soluzione positiva che è uguale a meno se vi ricordate come anche scritto nella slide mu quadro diviso lambda quindi possiamo invertire questa relazione e esprimere mu quadro come meno lambda V quadro quindi andiamo adesso a sostituire qui quindi qua mettiamo un asterisco e qua ci mettiamo il nostro asterisco un mezzo demuita demuita minus one half meno lambda V quadro V quadro meno meno lambda V quadro V eta meno un mezzo meno lambda V quadro eta quadro meno lambda V cubo eta meno tre mezzi lambda V quadro eta quadro meno lambda V eta cubo meno meno un quarto lambda eta alla quarta meno un quarto lambda V alla quarta ancora facciamo un passaggetto stupido di algebra allora abbiamo più più un mezzo lambda v alla quarta più lambda V cubo eta più un mezzo lambda V quadro eta quadro meno meno lambda v cubo eta meno tre mezzi lambda V quadro eta quadro meno lambda V eta cubo meno un quarto lambda eta alla quarta meno un quarto lambda V alla quarta e a questo punto possiamo sommare tutti quanti i termini omogenei quindi questo con questo poi abbiamo il termine con la terza potenza poi abbiamo il termine con la quarta potenza di questo ne abbiamo uno solo uno due tre poi abbiamo in questo qui come V quarto uno due tre quattro e uno due tre quattro e poi abbiamo questi due termini che si cancellano quindi adesso andando a sommare ciò che resta abbiamo demu eta demu eta meno lambda V quadro eta quadro meno lambda V eta cubo meno un quarto lambda eta alla quarta più un quarto lambda V alla quarta e siamo arrivati ditemi quando ci siete così torniamo alla slide ok 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 allora adesso questa la rimetto qui sulla slide quindi questo è quello che abbiamo appena ottenuto ok quindi di fatto andando nel nostro stato di vuoto del campo e facendo una perturbazione attorno a questo stato di vuoto e sostituendo questa espressione del campo nella nostra lagrangiana ecco un po' di passaggetti troviamo alla fine questa espressione qui allora cerchiamo di capire adesso il significato di questi vari termini ok abbiamo utilizzato in questo risultato in questi passaggi anche questa la relazione tra mu e lan quindi 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 compariamo con la lagrangiana of a free scala ok la una che 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 in l'abbiamo vediamo qui abbiamo a mass term ok come con il square of field ok e so we can interpret this term here as a mass term in usual way 1 half square the mass and then square of field and so now by inverting this we can obtain the mass of this eta particle ok arising as an excitation or as a quant of the field at the vacuum just inverting this is given by square root of 2 lambda v square or if you like square root of 2 lambda mu square clearly mu square is negative so overall the argument is positive so we obtain a new particle with a mass a physical mass given in terms of these parameters then we have the terms proportional to eta third and eta four which can be identified as triple and quartic self interaction terms that you see here on the right side of the slide ok so this one here and this one there and finally we have this one that I put in gray which is just a constant ok it's a number it has no physical consequence and so we will completely neglect this in following ok quindi quello che abbiamo ottenuto è un termine di massa per la particella eta sempre nell'ipotesi che mu quadro sia negativo e poi dei termini di auto interazione a tre o a quattro particelle con le rispettive accoppiamenti lambda v e un quarto lambda now therefore after spontaneo simity breaking and having expanded the field around the vacuum state the lagrangian can be written in this form here so we can single out now the we can write explicitly the mass term of the heat and then the remaining term which is just the self interaction terms triple and quart pull ok ci siete fin qui qui siamo partiti noi da un campo reale e abbiamo fatto tutta questa pappardella qui ok abbiamo scelto la soluzione con un quadro negativo questo ci dà due stati di vuoto del genere ne abbiamo scelto uno abbiamo fatto una perturbazione del campo intorno a questo stato di vuoto e questo ci ha fornito una particella eta con massa ok adesso ci andiamo come sempre a complicare la vita passo dopo passo fino ad arrivare alla cosa più complicata di tutte che alla fine è il vero meccanismo di Higgs ok quindi siamo partiti da un campo reale adesso complichiamoci un po' la vita e passiamo a un campo complesso immaginiamo quindi che il nostro campo sia dato da fi uno più i fi due e ripetiamo esattamente quello che abbiamo appena fatto quindi andiamo a sostituire questo campo scritto in questo modo nella lagrangiana adesso qui avremo il compresso coniugato ok facendo queste derivate adesso lasciamo stare i passaggi potete verificarlo immediatamente di fatto è possibile scrivere la lagrangiana in questi due modi qua quindi separare il termine in fi uno il termine in fi due e poi al solito abbiamo il termine quadratico in quadro e il termine che va come la quarta potenza dei campi ok potete verificare semplicemente questi passaggi ma è un attimo a farlo allora now under global U1 transformation global means a simple phase transformation ok where alpha is a global it's a global constant it turns out that the transformed field are exactly equal to the untransformed field se voi prendete il campo trasformato in questo modo qui ne prendete il complesso coniugato qui e il non complesso coniugato qua ok vedete che di fatto i due esponenziali si annullano nel prodotto e quindi trovate che il fi star fi trasformato coincide con il fi star fi non trasformato quindi in altre parole this lagrangian possesses a global U1 symmetry ok quindi nel caso che abbiamo visto prima nel caso semplice di un campo reale la simmetria era da fi a meno fi perché intervenivano soltanto potenze pari adesso abbiamo una simmetria un pochettino più complessa che è una simmetria globale U1 ok e la lagrangiana possiede questa simmetria chiaramente so as before since the potential energy can have a minima only if the lambda parameter is positive the shape of the potential depends on the sign of the mu square parameter so we have again two possibilities if mu square is positive the minimum of the potential occurs when both the fields phi1 and phi2 are zero if on the other hand we take the negative solution the potential has infinite minima defined by the circumference given by this equation here e questo lo potete visualizzare graficamente ok quindi questa è la situazione in cui mu quadro è positivo abbiamo un solo minimo corrisponde al caso in cui entrambi i campi siano zero e questo è il nostro collo di bottiglia ok il fondo di bottiglia che abbiamo visto prima quindi il caso in cui invece i stati di minimo i stati di vuoto sono infiniti e stanno tutti su questa circonferenza qui ok ok now the physical vacuum state will corresponds to a particular point in this circle ok and the choice of the vacuum state among the infinite possibilities causes the spontaneous breaking of the global u1 symmetry of the lagrangian this means that the lagrangian will still remain symmetric under global u1 transformation but the ground state of the theory will be no longer symmetric ok quindi nel momento in cui la particella decade in uno di questi stati di vuoto tutti degeneri e infiniti viene rotta spontaneamente la simmetria cioè lagrangiana mantiene la sua simmetria rispetto a trasformazioni globali con 1 ma lo stato fondamentale no perché adesso sarà soltanto uno di questi impossibili uno di questi infiniti di questi infiniti stati degeneri ok e anche in questa cosa qua possiamo fare una scelta senza rompere la generalità e per comodità andiamo a sceglierci tra questi infiniti stati lo stato di vuoto corrispondente al valore cioè alle coordinate fi1, fi2 uguale a v0 ok so without loss of generality the vacuum state can be chosen to be in the real axis this one here ok quindi dove il campo il fi con uno avrà un valore avrà un certo valore e il campo fi con due invece sta a zero perché giace sull'asse fi con uno so and now as before the complex scalar field can be expanded around the vacuum state so we make a perturbation eta around v for the field fi1 and the perturbation whatever zeta around zero for the field fi2 so overall we can rewrite our complex field as v plus eta plus i c ci siete? no questo ultimo passaggio ok allora stiamo facendo quello che abbiamo fatto prima semplicemente nell'asse reale adesso lo stiamo ripetendo in questo piano complesso se vuoi ok in cui abbiamo fatto due campi allora in quel caso lì avevamo ottenuto due stati di vuoto e ne abbiamo scelto uno ok quello positivo per esempio qui ne abbiamo infiniti perché sono tutti quelli che stanno su questa circonferenza e di nuovo ne scegliamo uno supponiamo che sia proprio per comodità ovviamente scegliamo questo qui cioè il caso in cui il vuoto corrisponde ha un valore ben preciso di fi uno è zero fi due perché fi due siamo su quest'asse reale qui ok quindi fi due di fatto è zero quindi andiamo a scegliere noi il minimo vi zero dopodiché esattamente come abbiamo fatto prima andiamo di nuovo a perturbare il nostro stato di vuoto ok per tirarci fuori quali sono le particelle che vengono ottenute da questa perturbazione come abbiamo fatto prima con la particella eta siccome adesso abbiamo però due campi andiamo a perturbare fi uno intorno al suo valore di vuoto v che è quello che abbiamo scelto e fi due intorno al suo valore di vuoto zero che è quello che abbiamo scelto perché ci siamo messi comodamente in questa scelta qui ok quindi quando adesso andiamo a scriverci il nostro campo come fi uno più i fi due e sostituiamo otteniamo v più eta più i z ok sei ok vi faccio notare anche da questo disegno qui che di fatto questa perturbazione del campo fi uno avviene lungo l'asse di fi uno ok quindi lungo l'asse dove abbiamo un gradiente del nostro potenziale la perturbazione di fi due avviene invece tangenziale a questo cerchio ok ci stiamo muovendo nella direzione di fi due ok e quindi avviene una direzione in cui di fatto il potenziale rimane uguale non cambia non c'è nessun gradiente in questa direzione e questa era una conseguenza che vedremo tra un attimo now as for the simpler case of a real scalar field one can then rewrite the Lagrangian in terms of the excitation eta and xi and zeta so now we have two we have two because we have two fields ok quindi senza ripetere i passaggi che abbiamo fatto prima alla fine ok possiamo riscrivere la nostra Lagrangiana in questo modo qui ok i passaggi sono un pochettino più complicati perché abbiamo due campi ma è inutile farli insomma è soltanto algebra elementare quindi alla fine cosa otteniamo otteniamo un termine cinetico per questa nuova particella eta che sarebbe l'eccitazione del campo attorno al vuoto di fi 1 un termine cinetico per questa nuova particella tra virgolette particella z che sarebbe appunto la particella corrispondente al vuoto di fi 2 un termine di massa soltanto per la particella eta e capiremo adesso perché e poi i termini di self-interaction so the massive field eta corresponds to radial excitation in the direction picked out by the choice of the physical vacuum system cioè questa particella che adesso acquista massa la eta è quella che abbiamo ottenuto andando a fluttuare il nostro campo nella direzione del campo fi 1 che è dove abbiamo un gradiente del campo del potenziale the field z eta instead remains massless we don't have a corresponding mass term in the lagrangian ok and it is called a goldstone boson the goldstone boson is an unphysical boson which corresponds to tangential excitations so excitations in the direction where the potential does not change allora ditemi se avete capito questa cosa se no ve la provo a ripetere no sì cioè dovrei aver capito ok è una cosa abbastanza stratta e complicata però cercate di seguire il ragionamento logico ok io sto immaginando la pallina che si muove lungo questa curva per cercare di esatto vabbè puoi ragionare anche così ok quindi in un caso ci stiamo fluttuando nella direzione in cui il potenziale cambia e questo ci fornisce una particella con un termine di massa in un altro caso stiamo fluttuando attorno alla direzione in cui il potenziale non cambia siamo tangenti al potenziale qui ok e questo ci fornisce sì una nuova particella ma senza massa queste particelle che vengono prodotte in questo modo dalla rottura spontanea di simmetria e che appaiono senza massa vengono chiamati bosoni di Goldstone e si tratta di particelle non fisiche perché non esistono in natura quindi dobbiamo trovare adesso un metodo per sbarazzarcene ok prima fatemi dire un attimino questo teorema di Goldstone so if a Lagrangian is invariant under a group of transformation g with n generators and if there is a spontaneous symmetry breaking such that the new vacuum is only invariant under a subgroup of transformations g prime ok with m smaller than n generators then a number n-m of unphysical massless scalar fields called Goldstone bosons will appear ok quindi se avete una Lagrangiana che inizialmente ha una simmetria un gruppo di simmetria g a m generatori rompete spontaneamente la simmetria e il tuo stato di vuoto ha una simmetria più piccola nel senso che è simmetrico soltanto rispetto a un sottogruppo di g e quindi è relativo a un numero minore di generatori allora un numero pari alla differenza tra n e m di bosoni scalari privi di massa quindi bosoni di Goldstone comparirà spontaneamente nella Lagrangiana ok facciamo l'esempio di prima so in the previous example the Lagrangian had a U1 symmetry so just one generator n equal 1 and after symmetric breaking the system had no symmetry at all right quindi m uguale 0 quindi n meno m fa 1 and as a consequence just one Goldstone boson appeared che è la particella eta z ok with e qua c'è se volete un po' la magia di tutta questa discussione with an appropriate gauge transformation the unitary gauge che noi non studieremo perché è una cosa complicatissima però credeteci the unphysical Goldstone bosons disappear from della Lagrangian but their degrees of freedom are not lost they are transformed into the longitudinal polarization degrees of freedom of the now massive gauge bosons allora qui c'è tutta la magia della discussione il teorema di Goldstone ti dice che se in seguito a una rottura spontanea di simmetria vengono fuori necessariamente dei bosoni di Goldstone quindi particelle bosoniche scalari a massa zero che non corrispondono a particelle fisiche quindi dobbiamo trovare un modo per liberarcene ok non solo vogliamo liberarcele ma abbiamo visto che nel procedimento vengono fuori delle particelle massive come la particella eta che ha qui stato un termine di massa ok ma per essere massive devono anche avere e questo mi riallaccia a quello che vi dicevo prima anche uno stato di polarizzazione longitudinale perché particelle non massive come per esempio il fotone ha soltanto due stati di polarizzazione trasversa ok quindi questa unitary gauge che è una trasformazione ben precisa fa due miracoli il primo miracolo è che ti fa sparire i bosoni di goldstone e ti ritogli via dai piedi dalla grangiavana il secondo miracolo è che i gradi di libertà che erano associati a questi bosoni di goldstone verranno riassorbiti riconvertiti nella polarizzazione longitudinale delle particelle che abbiamo creato e che adesso sono massive e che quindi richiedono necessariamente uno stato di polarizzazione longitudinale avete seguito il ragionamento? sì complesso in realtà per me però questa cosa qua è una cosa che per farla bene dovete seguire un corso quello di Moretti per esempio di teoria dei campi avanzati ok noi nel nostro corso non possiamo fare questo sviluppo è troppo complicato è fuori dallo scopo del corso quindi prendete questa cosa per buona ok che però è una cosa che si dimostra rigorosamente in teoria dei campi ok now let's now move to the most important result which is the real Higgs mechanism ok quindi per adesso abbiamo parlato noi di meccanismi di rottura spontanea della simmetria per un bosone scalare sia esso un bosone reale che è il caso semplice oppure un bosone complesso che è il secondo caso che abbiamo trattato ok vediamo adesso come tutto ciò entra in gioco nel modello standard ok so in the Higgs mechanism that was proposed in 1964 by Higgs Engert and Brutt the spontaneous symmetry breaking of a complex scalar field quindi dell'ultimo tipo che abbiamo trattato with the potential of this type here is embedded in a theory of local gauge symmetry which is the electroweck theory with a U1 hypercharged SU2 left symmetry ok quindi adesso non ci interessa più la U1 globale ma quello che ci interessa a noi è questa U1 SU2 locale che è quella della simmetria elettrodebole ok as a result the originally massless gauge bosons of the theory quindi sostanzialmente i bosoni W123 la Z eccetera che erano introdotti massless e che possono essere convertiti in questi bosoni fisici tramite questo meccanismo acquisteranno massa vedremo ovviamente come in dettaglio lo vedremo domani with an appropriate gauge transformation using this unitary gauge the unphysical goldstone bosons will disappear from the Lagrangian and their degrees of freedom will be transformed into the wanted longitudinal polarization degrees of freedom of the now massive gauge bosons the remaining massive scalar field eta which is remained as H is called the Higgs boson so the final Lagrangian for a generic gauge boson B contains the following contribution B pensato come un bosone di gauge generico non quello dell'ipercarico questo è un esempio generale va bene quindi la Lagrangiana alla fine di tutta questa procedura che è quello che ricaveremo domani ok avrà questi contributi qui avrà un termine puramente di Higgs quindi termine cinetico di Higgs con le derivate e un termine di massa di Higgs dove la massa dell'Higgs lo ricaveremo domani sarà radice di 2 lambda v poi avrà un termine invece relativo ai bosoni di gauge in questo caso abbiamo chiamato genericamente B in cui compare non solo il termine di Young-Mills che ci dà il termine cinetico ma anche finalmente un termine di massa ovvero un termine quadratico nel nostro campo di gauge ok da cui si ottiene la massa esattamente la radice quadrata di questa quantità qui poi avremmo dei termini di interazione tra il bosone di gauge e Higgs che possono essere interazione a 3 o a 4 quindi con un x o con due x e vedete qui i due diagrammi quindi x con due bosoni di gauge o due x con due bosoni di gauge e queste sono le rispettive copiamenti e infine avremmo i termini di auto interazione del bosone di Higgs a 3 e a 4 so the mass acquired by the gauge boson ok la massa è la radice quadrata di questa quantità qui perché è un mezzo m quadro b quadro ok quindi la radice quadrata di g quadro v quadro ci dà la massa del bosone di gauge will depend on the strength of the gauge coupling g ok and on the vacuum expectation value v of the Higgs field hence it is non zero only if v is non zero and this is only possible if one consider the negative solution ok quindi questa è la per cui questa soluzione negativa che inizialmente sembra strana di fatto è l'unica che ti consente di dare massa ai bosoni di gauge perché il valore di aspettazione del vuoto del campo di Higgs non nullo v ti entra proprio nel termine di massa del tuo bosone di gauge ovvero nel tuo termine quadratico in v nella lagrangiana chiaro ragazzi sì l'idea è chiara ok mi fermo ogni due secondi e chiedemi se è chiaro perché è una parte complicata questa mi rende conto che è complicato quindi voglio essere sicuro che mi stiate seguendo now in the electroweak model the Higgs mechanism is embedded in the SU2 left U1 hypercharged local gauge symmetry as we said already and therefore three goldstone bosons will require will be required to provide the longitudinal polarization of the three massive gauge bosons quindi abbiamo bisogno di tre bosoni di goldstone per dare massa a questi tre bosoni in addition after the spontaneo symmetry breaking there would be one massive scalar particle corresponding to the field excitation in the radial direction so in the direction chosen for the physical volume and for the simplest Higgs model requires four degrees of freedom so three are the three goldstone bosons that in the unitary gauge will be absorbed into the longitudinal polarization state of the three physical bosons and the fourth one is the Higgs boson itself okay so in the minimal Higgs model those four degrees of freedom are introduced in the form of two complex scalar fields placed in a weak isospin doublet okay quindi adesso stiamo facendo l'ultimo step di generalizzazione siamo partiti dal campo scalare siamo passati al campo complesso adesso stiamo facendo un campo complesso doppio all'interno di un doppietto di isospin debole okay quindi nel modello minimale di Higgs in cui sono sufficienti quattro gradi di libertà okay questi quattro gradi di libertà vengono diciamo espressi in questo modo qui quindi come due campi complessi una carica positiva una carica nulla come se avessimo qui che so il quark up il quark down per capirci autostati deboli quindi abbiamo adesso fi 1 fi 2 fi 3 e fi 4 and the upper and the lower components of the doublet must differ by one unit of electric charge okay questo è il modo in cui si costruiscono gli isodoppiletti deboli ma anche quelli forti now the Lagrangian for this doublet is then given by this expression here where now we have the Hermitian conjugate okay because this is a vector of complex fields and the energy potential term is given in the usual way okay so we have a term quadratic and a term to the fourth power essentially but now properly written in terms of the Hermitian conjugate and the real part for for mu square negative as usual the potential has an infinite set of degenerate minima which satisfies this hyper circle equation okay tutti i possibili degenerati stati di vuoto adesso chiaramente siamo in uno spazio a quattro dimensioni non siamo più in un cerchio ma in un hypercerchio again without loss of generality the vacuum state is chosen to correspond to the non zero vacuum expectation value of the neutra scalar field quindi vi ricordate abbiamo fi 1 fi 2 fi 3 fi 4 ok e noi per comodità ci andiamo a scegliere lo stato di vuoto questo qui ok quelli in cui di fatto soltanto la parte neutra è non nulla e vale v mentre la parte carica vale 0 ricordo che il doppietto ha questa struttura qui ok quindi questo va a 0 e questo qua quindi vuol dire che stiamo scegliendo fi 1 fi 2 e fi 4 0 e fi 3 invece diverso da 0 questo è il nostro stato di vuoto che scegliamo per comodità ok quindi al solito andiamo a perturbare adesso il nostro campo i nostri quattro campi rispetto alla loro posizione di vuoto che abbiamo scelto and the field can then expand about its minimum in the usual way so we're gonna have zeta 1 plus i zeta 2 v which is our non zero vacuum expectation value plus eta which is the corresponding excitation and then plus i zeta 3 ok and after gauging away through the unitary gauge the three resulting Golson bosons the xi 1 xi 2 and xi 3 both degree of freedom are once more reabsorbed into the longitudinal polarization state of the three massive gauge bosons the higgs tablet reduced to this ok quindi alla fine questi tre bosoni di Golson vengono fatti sparire nella unitary gauge vengono riassorbiti come stati di polluzione longitudinale tra i bosoni a cui vogliamo dare massa e quello che ci rimane a noi nello stato di vuoto dopo aver applicato la gauge unitaria è questo quindi questo qui è il modo in cui esprimeremo da partire da domani il campo di higgs ok where the eta particle which is the radial excitation of the field 5-0 has now been replaced by h ok chiamiamolo x quindi con l'h the resulting Lagrangian that we showed derived is known than the Salam-Weinberg model sostanzialmente è il cuore pulsante del modello standard ok quindi per oggi ci fermiamo qui che ore sono sono le si sono quasi le 11 ci fermiamo qui domani partiremo da questo punto e sostanzialmente andremo a inserire questo campo di higgs quindi il campo di higgs nel vuoto opportunamente perturbato all'interno della Lagrangiana elettrodebole quella che abbiamo ricavato prima con le derivate covarianti e da lì ricaveremo i vari termini di massa va bene va bene ok va beh se non ci sono domande o dubbi quindi ci vediamo domani alle 11 e domani completeremo la teoria del modello standard quindi completeremo il modello di higgs e parleremo ovviamente anche della scoperta sperimentale del bosone di higgs l'ultimo giorno invece come abbiamo anticipato faremo invece un excursus non troppo quantitativo ma più qualitativo su quelle che sono le prospettive della fisica al di là del modello standard ok va bene va bene ci vediamo allora domani alle 11 arrivederci domani buona giornata grazie 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 grazie